Nicola Canonico rompe gli indugi, il Foggia sarà regolarmente iscritto al prossimo campionato. Il presidente del club rossonero sgombra il campo dei dubbi, lo ha fatto nel pomeriggio in una nota. Cari tifosi rossoneri, il calcio Foggia 1920 intende rassicurarvi che l'iscrizione al prossimo campionato è in fase di completamento e l'incipit del comunicato stampa, che poi prosegue con i ringraziamenti alla sindaca Maria Ida Episcopo e agli assessori Frattarolo e Di Molfetta per quella che, afferma Nicola Canonico, è stata la loro dedizione e il loro impegno nei confronti del club. Senza il loro sostegno non saremmo riusciti a gestire questa importante fase, sostiene ancora il numero uno della società di Via Gioberti. Poi la chiosa di Canonico, stiamo mettendo in campo ogni sforzo per assicurarci che il Foggia partecipi al prossimo campionato pronto a lottare e a dare il massimo in ogni partita. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura insieme, con la passione e l'entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto. Il patron del Foggia conclude poi con un Forza Foggia la sua nota, dunque storia con il lieto fine. Nicola Canonico iscrive il Foggia al prossimo campionato, tirano un grosso sospiro di sollievo i tifosi. D'ora in poi si potrà nuovamente parlare di calcio e a breve di mercato con il popolo rosso-nero che sogna una stagione da protagonisti.